Stazioni. Torrette e Palombina, cosa sono? Già Falconara mi dice qualcosa, vecchia signora che si lascia accendere dalle esauste fiammelle petrolchimiche. Attento a Senigallia, non mi perdo la storia del canale con i portici del liceo Perticari ed il suo gelido tenerci fuori come gladiatori. Anche se è inverno, forse sulle lunule che il mare inventa fra uno scoglio e l'altro, si riesce a vedere un corpo bruno. Stazioni di Romagna, uguali e serie, Cesena, Sant'Arcangelo, Forlì, nuche di agricoltori coscienziosi.